e leonora la bella che dice ma che è coniugata leonora che avete parlato di inglese ma non vale della diretta allora adesso ti dico una cosa importante eleonora è molto coniugata a me non ci sono problemi io non ho detto che tu aveva ma giovanni ci sono problemi ma tu non hai capito ma io non arrivo a dovere varetone neanche e la voglio salutare come amicizia ci diamo dei baci tranquillamente un buon coffee aspetta giovanni ti prego è molto esuberante lui devo cercare di contenerlo però non ti sei calmo giovanni io conoscendo giovanni giovanni tra dieci minuti da qua quello è il problema e ti apre la testa a metà quello è il problema c'è proprio la testa a metà l'amicizia è fatto si dicono le parole giuste alle donne non le parole brutte allora cosa vorresti dire perché voi uomini quando avete questo vi credete che sa che ok va bene ricordati che la donna comanda sempre tu so semmo di me è un masco e semmo su un masco vicino a me va su un pagno vogliamo stare concentrati sul tema e leonora e leonora e leonora sta accompagnando in questo momento il video lo sta vedendo sul canale privato e lo sta accompagnando per renderlo pubblico cosa vuoi dire ad eleonora niente che la voglio salutare come amicizia la vuole vedere di persona e niente da una strada di male è un bacino alle guancette se è possibile andiamoci a prendere un buon caffè io è lì da soli o può venire giovanni e poi non mi faccio problemi ma tu sei geloso no io ho mai stato geloso io sono single invece tu hai questa leonora ovviamente noi ti rilanciamo l'invito di lello qualora tu volessi venire anche con giovanni ha detto lello per un incontro anche a tre e lo che guardi sto c'è capito il corto è la signora che deve venire da me la diretta l'hai vista l'ho vista è una bella è una bella cosa ti piace soprattutto di eleonora di quasi tutto cioè cioè il carattere che bellino che come sapete come fai a classe e vai tranquillo ciò che intendi il taglio il taglio che si era fatto era un bel taglio ma ti piace di più castano come era in diretta o più bionda come era prima no come era in diretta perché come vai così si è apprezzato chiaro ti vedi che ti vedi di donne ma completamente tu vai nel negativo io no quindi qual è la cosa che ti piace di più di leonora la sua presenza quindi la presenza scenica di leonora di persona non che sto con 41 bese la sua vedanza che non ci sta cosa ti piacerebbe fare oltre il caffè con eleonora niente chiacchierate basta del più del meno quale sarebbe l'oggetto della conversazione deve stare lei deve salire a chiacchierare con lei lo sta vedendo quindi è come se tu lo stessi dicendo direttamente a lei lo sta accompagnando lei il video capito questo video non lo può che accompagnare lei è sì perché è una brava persona su questo posso non è posso è così no tu non metti come dice un biscotto certificando ciò che stai dicendo quindi è una brava persona è una bella donna è affascinante attraente è chiaro non è che pensi chissà che ha la gamba lunga all'occhio chiaro l'hai notato sì sì di che colore è l'occhio è una bella ragazza e di che colore vedi che non l'hai notato ti sei fatto di stare da alto questa è la verità quando verrai qua che tramite lui oppure vengo insieme con te con la vana c'è qui giù andiamoci a prendere un buon caffè ma quindi lasciami adesso dire una cosa posso liberare mia moglie non ci sono proprio perché anna maria non ti interessa più no stai lì mi interessa pure vabbè l'ello però mi sava anche lei perché anche lei a classe anna maria è una battaglia fra la bionda e la bruno no solo che il genosso sei tu è brutta guarda che se ci coalizziamo io e giovanni qua succede veramente io te lo voglio solo di vabbè anche perché ricordati che leonora si potrebbe dire che la tua vince e qual è il problema è leonora vice direttore del quinto potere a te piacciono le donne in carriera è chiaro è perché lei da scuola lello da scuola a te e leonora e leonora dai scuola a lello aia non è che dico da costa no solamente l'amicizia e tu ti dico e basta e basta solo l'amicizia perché si vede già parlando ma cosa ti ha colpito nei discorsi che faceva leonora pure raffa è abbastanza che c'era è approvato raffa pure lui ok quello si chiamava come me però raffa non ho caffè niente caffè con raffaele a me mi piacciono le donne perché pure con la maria è una che è una scieca una donna monta e si sa spiegare parlando di eleonora è vero che ce l'ho introdotto io il discorso però limitati stai stai un po calmino così tanto per dire la gelosità non è la gelosia diceva la canzone va bene lello quindi posso mettere la buona parola sempre come deve essere vestita eleonora quando viene da te per andare a prendere il caffè a suoi gusti ma che come piacerebbe a suoi gusti il colore per esempio non lo so il colore tuo preferito qual è ciò che si vuole mettersi perché con questi tempi caldo e freddo caldo e freddo può avere una malattia noi non vogliamo che leonora sia male perché altrimenti poi non può fare il suo quindi non dobbiamo fare si veste a strati come la cipolla così man mano si spoglia eventualmente va bene e leonora quindi noi ti aspettiamo qui noi no dobbiamo stare anche noi devo bagnare il biscotto il bambino con giro per la veristrò il bambino no io devo solo stare lì per introdurvi alla discussione poi vi lascio con giovanni giovanni ti prego tranquillizzati giovanni quando vedrai questo video ti prego di tranquillizzati adesso gli è venuto lo strigno di eleonora ma passerà anche qui la prossima chi sarà chi punterà all'ello la prossima volta per ora e solo per ora è quasi tu anzi attenzione attenzione a scuola andiamo ad adelfia chi mi vuole fare o ad adelfia o a felice i gangi mi devo affrontiamo un po bello per ora stai bene e se la prossima fossi tu che ne pare ma che fa te ne scappi vieni qua collega che dobbiamo parlare vieni collega delle belle e l'altra amica nostra che non mi sono scordato ancora faccio vedere che tu come vedi te ne scappi mi devi delle chiave della macchina grazie a tutti